Seminare O Dio Ancora recentemente abbiamo assistito a barbare e recrudescenze dell'antisemitismo. Non mi stanco di condannare fermamente ogni forma di antisemitismo. Per affrontare il problema alla radice dobbiamo però impegnarci anche a dissodare il terreno su cui cresce l'odio, seminandovi pace. C'è ancora chi va dicendo che non sono cose avvenute. Vergogna, è una vergogna. Io sono nato il 31 maggio del 1932, ma la data che ricordo ancora più nitidamente è quella del 22 ottobre 1939. Perché? Perché facendo la prima elementare fui chiamato dal maestro vicino alla cattedra e lui con voce estentoria e solenne mi disse Astrologo, tu da domani non puoi più venire a scuola. Io rimasi piuttosto di essere fatto. Perché? Che cosa ho fatto? Perché è appartenente alla razza ebraica e quindi razza moralmente e fisicamente inferiore. Io mi sono dato una guardata e non vedevo in che cosa poteva essere inferiore. Ma la cosa mi colpì talmente moralmente che arrivai a casa per dare una notizia ai miei genitori e lì trovai anche una atmosfera ancora più cuva, più triste perché mia madre piangeva, mio padre aveva la mano sulla fronte come se pensasse qualcosa. Perché? Perché gli era stata ridigliata la recicenza di lavoro. Quindi questo padre di famiglia si sarebbe dovuto trovare con quattro figli a carico senza lavoro all'improvviso e anche col problema di, essendo noi quattro figli, dove mandarli a scuola, oltretutto. E domandò a destra e a sinistra, però gli unici che si dimostrarono disponibili ad accogliere i figli per andare a scuola furono i padri Giuseppini di San Lorenzo. Noi abitavamo a San Lorenzo e questa scuola era il più decimo a Via degli Etruschi 36, quindi vedete che i ricordi sono ben precisi. E il sacerdote che si fece promotore di risolvere questo problema fu un certo padre libero, Raganella, il quale disse noi li possiamo tenere a scuola, però c'è immediatamente da fare una mossa e la mossa è quella che dobbiamo cambiare il cognome. Voi immaginate un ragazzino di sei anni, quando c'era l'appello magari non rispondeva perché non era il suo cognome e agli occhi dei compagni poteva apparire o ritardato o distratto. Comunque questo andò avanti, diciamo così, in un certo modo tranquillamente fino a che il 19 luglio 1943, come voi forse ricorderete, c'è fu il terrificante bombardamento di San Lorenzo e il nostro palazzo fu completamente distrutto e su 36 persone abitanti rimanemmo in cinque soli superstiti. Per sei ore io e mia sorella rimanemmo sotto le macerie, a un certo punto vidi una mano che si protendeva verso di me, erano arrivati finalmente i vigili del fuoco alle sei del pomeriggio. Quindi io erano oltre sei ore che stavo sotto le macerie. In travidi anche Pio XII che era arrivato, l'unica autorità che era andata a vedere cosa era avvenuto in quel quartiere e mi rimase impreso il fatto che aveva il suo viso macchiato di sangue. Poi l'8 settembre ci fu il famoso armistizio e ci fu una recrudescenza della caccia agli ebrei con la collaborazione dei fascisti e ci fu allora di nuovo la necessità di trovare una soluzione. Di nuovo questo padre libero Naganella, un vero eroe, non quelli che hanno strombazzato, quello mumile, ci venne incontro perché aveva avuto la notizia che i fascisti erano sulle tracce della nostra famiglia e quindi dovevamo scappare immediatamente. Lui ci portò ad Albano Razzale dove c'era un collegio sempre dei padri giuseppini che ci accolsero ovviamente con una grande disponibilità, disponibilità dell'accoglienza e nel darci spazio agli studi, ma con un problemino, un problemino che il mangiare a quell'epoca, non stiamo parlando del 2020, a quell'epoca era veramente un problema e non era sufficiente per loro e quindi noi ragazzini avevamo fame, ci davano quel poco che ci potevano dare ma non più di quello perché non ce n'era. Allora, durante le periodiche gite che ci facevano fare questi bravi sacerdoti, lui ci facevano fare una gita da Albano Razziale a Castel Gandolfo, lì c'era tutto lo schieramento dei camion tedeschi attaccati alla villa del Papa perché in quel modo non potevano essere colpiti dagli alleati perché erano attaccati alle mure vaticane. L'economo del collegio mi propose, vedendo che ho una fame, io e i miei fratelli incredibili, dice senti, se tu mi prendi una pompa d'olio dei tedeschi io te la pago dieci sfilatini, i sfilatini erano dei pani, capirai io, dieci sfilatini. E allora quando questo padre Ornello, ancora mi ricordo il nome, ci portò a fare questa gita a Castel Gandolfo, io mi infilai come una freccia sotto il camion tedesco, sapevo dove prendere la pompa e me la portò via. Tutto bene, per qualche giorno. Alla terza pompa che io, purtroppo ladro, avevo rubato, mi arrivò un colpo di fucile in testa e un tedesco mi piantò il mitra sotto il naso. Bestemmiava, credo, perché c'ha gli occhi che fuori dalle orbite dalla rabbia perché gli avevano rubato queste pompe. E io ovviamente, lui parlava tedesco, io capivo, io facevo paura. Questo poverino di padre Ornello corse vicino, corse vicino a questo tedesco per fargli capire, mi faceva bambino, bambino Ornello niente. Io, sapendo che c'era il bosco di fronte, come una saetta mi infilai dentro il bosco, approfittando che queste ghiacchiano, il tedesco si girò e mi sparò. Mi sparò, io avevo la furbizia di stare carponi e vedevo tutte le schegge degli alberi che mi piovevano addosso. La sera avevo 40 di febbre. Questa è una prima fase. Una volta che il collegio fu bombardato ci trovammo di nuovo nella necessità di trovare un'allocazione perché c'era una persecuzione in atto. Di nuovo questo sacerdote è meraviglioso, questo padre libero, si diede da fare e alla fine andò a bussare a un convento di clausura stretta che è la chiesa di Santa Susanna che si trova a Roma in via 20 Settembre proprio adiqua al palazzo presidenziale. Ma ovviamente la madre priore fece delle resistenze perché era una clausura stretta e quindi lei non era assolutamente d'accordo che poteva accogliere queste persone. Questo padre libero fece talmente pressione che gli disse guardi che ne vale la vita di una famiglia. Dice se lei se la sente di avere questa responsabilità che aveva la sua, la poverina era frastornata perché non sapeva nemmeno lei cosa avrebbe potuto fare. E allora padre libero disse guardi cerchi di aprirmi perché c'è un ordine non so se sei lamentato o se è vero, c'è un ordine che viene dall'alto. Io questo ho sentito che un ragazzino di 11 anni, io queste parole l'ho sentite, un ordine che viene dall'alto. Di chi? Di un vescovo? Di un monsignore? Di un cardinale? Non lo so. Alla fine la sua ora si convinse e ci fece ospitare. Questa parentesi durò dal primo febbraio del 44, quando gli alleati sbarcarono a Nazio, fino al 4 giugno 1944, quando gli alleati vennero a Roma e liberarono la città. Si chiudeva così un periodo terribile perché questo soggiorno di 4 mesi noi dovevamo vivere in sé in una stanza, primo. Non c'era mangiare per tutti, assolutamente non ce n'era e le suore già facevano fatica ad andare avanti i poveretti e oltretutto non si poteva parlare, cioè silenzio assoluto. Ma cosa avvenne? Che queste suore poverine, in qualcuna di loro si risvegliò un istinto materno, di pietà per questo ragazzino poveretto che lo vedevano affamato, frastornato, impaurito. E allora una di queste suore, una certa suore Maria Carmela, una bella suora, mi prese da una parte, mi vestì da suora e mi portò nel giardino per prendere finalmente un po' di sole. Questo è durato fino al 4 giugno del 44. Io voglio dire soltanto ai giovani che queste cose sono veramente avvenute, veramente avvenute. Io le ho pagate sulla mia pelle, io e la mia famiglia, non auguro a nessuno, specialmente a chi lo nega questo fatto qui, che queste cose possano avvenire a loro. No, non lo auguro né a loro e né alle loro famiglie. Ma queste vergognose, dolorose vicende non si devono ripetere mai più.